Tre spacciatori, tutti minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti nella valle del Metauro, sono stati individuati la loro attività stroncata dai carabinieri di Urbino. Il loro terreno di spaccio erano le scuole, i luoghi di aggregazione di locali frequentati dai loro coetanei. Ma un'operazione di diversi reparti della compagnia di Urbino, coordinati dalla comandante Renato Pugliesi, eseguita nei giorni scorsi, ha messo fine alla loro attività che portavano avanti da diversi mesi. Per uno di loro è stata eseguita la misura precautelare dell'accompagnamento e denunciati in stato di libertà gli altri due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Notevole il quantitativo di ascici ritrovato nelle loro abitazioni, oltre 350 grammi, in parte già confezionati in dosi per essere messe sul mercato, in parte ancora in panetti. Oltre a denaro contante, probabilmente provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione ed utensili per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Insomma, il perfetto kit dello spacciatore, che ha subito fatto pensare agli inquirenti ad un'attività consolidata e continuativa, cosa che, data la giovane età degli indagati, ha acceso un campanello d'allarme nelle compagini sociali. L'indagine, condotta già nel mese di settembre, è partita dalla stazione dei carabinieri di Sant'Angelo in Vado, su alcune segnalazioni che hanno fatto partire un'indagine di tipo tradizionale, che ha portato però ben presto i militari all'individuazione del gruppetto, rispondendo così ad uno dei mandati, la tutela delle fasce deboli ed il contrasto alle attività illecite, che il nuovo comandante della compagnia di Urbino ha impartito ai suoi uomini sin dai primi istanti del suo insediamento.